Iniziamo introducendo i concetti generali che ci saranno utili in questa lezione. Per approfondimenti vi rimando agli altri miei video sui numeri complessi, soprattutto quello su come scrivere un numero complesso in forma trigonometrica. Trovate i link in descrizione. Un numero complesso può essere scritto in tre forme diverse, algebrica, trigonometrica ed esponenziale, e tutte hanno in comune i, ciò che caratterizza un numero complesso e che è chiamato unità immaginaria e ha la proprietà di avere il quadrato uguale a meno 1. La forma esponenziale è una scrittura simile ma più compatta rispetto alla forma trigonometrica. Queste tre forme sono legate da queste formule. ρ è chiamato modulo del numero complesso z e θ è l'argomento di z. Per il calcolo delle radici ennesime è fondamentale scrivere il numero complesso in forma trigonometrica o esponenziale. Noi vedremo il discorso in forma trigonometrica, ma un ragionamento analogo può essere fatto per quella esponenziale. Dato un numero complesso z, scritto come ρ per cosθ più isθ, le radici ennesime di z sono dei numeri complessi che possiamo chiamare w con k, che hanno questa espressione. r è il modulo e φ con k l'argomento del numero complesso. r e φ con k si ricavano con queste formule. Il modulo r è la radice ennesima di ρ e φ con k si ottiene con la formula θ più 2kπ fratto n, dando a k valori che vanno da 0 ad n meno 1. È facile notare che nel campo complesso le radici ennesime sono di numero pari all'indice, cosa che non sempre succede nel campo dei numeri reali. Per esempio, la radice cubica del numero reale 8 è 2. 8 inteso come numero complesso ha invece esattamente 3 radici cubiche. Vedremo negli esercizi questa differenza. Possiamo dare un procedimento per il calcolo delle radici. Per prima cosa, scriviamo z in forma trigonometrica. Poi, calcoliamo r e φ con k con le formule. Calcolando φ con k, assegneremo a k i valori da 0 ad n meno 1, trovando quindi n argomenti. Infine, scriviamo i numeri complessi risultanti in forma trigonometrica, ricavandone poi i valori in forma algebrica. Ma bando alle chiacchiere e vediamo gli esercizi pratici. Iniziamo calcolando le radici cubiche dell'unità immaginaria, di I. Per prima cosa, dobbiamo scrivere il numero complesso in forma trigonometrica. Questo è un passaggio che non approfondiremo in questo video, che altrimenti durerebbe delle ore. Vi rimando al mio video sull'argomento per approfondimenti. I può essere scritto in forma trigonometrica come coseno di pi greca mezzi più i seno di pi greca mezzi, quindi con modulo uguale a 1 e argomento uguale a pi greca mezzi. Passiamo adesso al calcolo di modulo e argomenti delle radici. R sarà uguale alla radice cubica di ρ, quindi alla radice cubica di 1. Il risultato è 1. Per quanto riguarda gli angoli fi con k, questi dipendono dall'argomento di z secondo la formula θ più 2k pi greca fratto n. Allora potremmo scrivere pi greca mezzi più 2k pi greca fratto 3. e dovremmo dare a k i valori 0, 1 e 2 per trovare tutti gli argomenti. Prima di sostituire i valori di k semplifichiamo l'espressione. Facciamo la somma al numeratore, passiamo da divisione a moltiplicazione prendendo l'inverso del denominatore, e infine facciamo la moltiplicazione. Ora è molto più semplice trovare i valori che ci interessano. Dando a k il valore 0 e svolgendo i calcoli si ottiene il valore pi greca sesti. Per k uguale 1 si ottiene un angolo di 5 pi greca sesti. Dando a k il valore 2 e poi svolgendo i calcoli si ottiene l'angolo di 3 pi greca mezzi. Abbiamo trovato il modulo e i tre argomenti delle tre radici cubiche dell'unità immaginaria e ora ne possiamo calcolare i valori. Otterremo tre numeri complessi scritti in forma trigonometrica, che avranno come modulo 1 e come argomenti i tre angoli che abbiamo calcolato nel passaggio precedente. Iniziamo dal primo, di argomento pi greca sesti. Sostituiamo i valori di coseno e seno di pi greca sesti per trovare la prima radice. La seconda radice ha come argomento 5 pi greca sesti, che ha come valori di coseno e seno rispettivamente meno radice di 3 su 2 e un mezzo. L'ultima radice ha argomento 3 pi greca mezzi, che ha coseno nullo e seno pari a meno 1. Questi tre numeri complessi sono le tre radici cubiche dell'unità immaginaria. I numeri complessi possono essere visti anche come punti su un piano, detto piano complesso. Se rappresentiamo sul piano complesso le tre radici cubiche dell'unità immaginaria, succede una cosa particolare. Infatti, esse sono i vertici di un triangolo equilatero, inscritto in una circonferenza di raggio pari al modulo delle radici stesse. Questo non è un caso, e infatti le radici ennesime di un numero complesso, rappresentate sul piano complesso, sono i vertici di un poligono regolare di n lati, inscritto in una circonferenza di raggio pari alla radice ennesima del modulo del numero complesso. Vediamo il secondo esercizio, nel quale ci viene chiesto di calcolare le radici quarte di 16. Attenzione perché si potrebbe pensare di rispondere 2. In realtà, 2 è la risposta se consideriamo 16 come un numero reale. Ma in questo caso 16 è un numero complesso, e quindi ha esattamente 4 radici quarte. Per risolvere l'esercizio dobbiamo trovarle tutte. Iniziamo scrivendo 16 in forma trigonometrica, come 16 per coseno di 0 più i seno di 0. Ai numeri reali puri positivi corrisponde un angolo pari a 0. Adesso calcoliamo modulo e argomenti delle radici. Il modulo r sarà dato dalla radice di indice 4 di 16, quindi 2. Per calcolare gli angoli fi con k applichiamo la formula con θ uguale a 0. Semplifichiamo per trovare l'espressione che, una volta sostituiti i valori di k, ci darà gli argomenti delle radici. Dato che questa espressione è piuttosto semplice, il calcolo degli argomenti non presenta particolari difficoltà, e ci permette di ricavare i 4 angoli, 0, π mezzi, π e 3π mezzi. Ricavati modulo e argomenti, possiamo calcolare i valori delle radici, sostituendo r e fi con k. Tutte le radici hanno modulo 2. La prima ha argomento 0. A 0 il coseno vale 1 e il seno 0, e si ottiene 2 come risultato. La seconda radice ha argomento π mezzi. Il coseno si annulla e il seno vale 1, e il risultato è 2i. La terza radice ha argomento π, angolo il cui coseno è meno 1 e il seno 0. Meno 2 è il risultato. L'ultima radice ha argomento 3π mezzi, angolo il cui coseno vale 0 e il seno meno 1. Il risultato è meno 2i. Queste sono le 4 radici quarte di 16, tra cui troviamo anche 2 e meno 2, radici algebriche di 16 considerato come numero reale. Rappresentando le 4 radici di 16 sul piano complesso, queste si trovano ai vertici di un quadrato iscritto in una circonferenza di raggio 2. Vediamo in questo terzo esercizio come sfruttare il calcolo delle radici per risolvere una semplice equazione nel campo C dei numeri complessi. Per prima cosa, scriviamo l'equazione in una forma diversa. L'idea vincente è quella di fare una sostituzione, imponendo il secondo membro uguale a U. L'equazione può essere riscritta in questo modo, e ora possiamo prendere la radice di entrambi i membri e portare l'unità immaginaria al secondo membro cambiandone il segno, per trovare un'espressione per Z, la nostra incognita. otterremo due soluzioni, che saranno date dalle radici complesse di U, che abbiamo indicato con W con 0 e W con 1, a cui sommeremo l'unità immaginaria. Quindi, ciò che dobbiamo fare è calcolare le radici di U. Scriviamo allora U in forma trigonometrica. Scritto in questa forma è uguale a 8 per coseno di pi greca terzi più il seno di pi greca terzi. Adesso calcoliamo modulo e argomenti delle radici di U. Il modulo è la radice quadrata di 8, e con alcuni passaggi che sfruttano le proprietà di radicali troviamo il valore 2 radice di 2. Poi scriviamo l'espressione che ci permetterà di trovare gli argomenti. Svolgendo alcuni semplici calcoli la possiamo semplificare. Ora diamo a K i valori 0 e 1 per trovare gli angoli argomenti delle radici di U. Sono pi greca sesti e 7 pi greca sesti. Trovati modulo e argomenti, possiamo calcolare i valori delle radici. Dobbiamo sostituire nelle formule. Entrambe le radici avranno modulo uguale a 2 radice di 2. La prima ha argomento pi greca sesti. Coseno e seno di quest'angolo sono radice di 3 su 2 e un mezzo. Svolgendo i calcoli si ottiene il risultato radice di 6 più radice di 2i. La seconda radice ha argomento 7 pi greca sesti, angolo i cui valori di coseno e seno sono rispettivamente meno radice di 3 su 2 e meno un mezzo. Il risultato di questa radice è meno radice di 6 meno radice di 2i. Trovate le radici di U, possiamo sostituire per trovare finalmente i valori di Z, soluzioni dell'equazione. Sostituendo le due radici trovate e poi semplificando il risultato con un raccoglimento, troviamo le soluzioni di questa equazione. Grazie per aver visto questo video. Se ti è stato utile, clicca mi piace. Iscriviti e commenta se hai un dubbio riguardo a questa lezione. Ci vediamo alla prossima e buono studio!